Scusa, scusa, scusa. Chi era? È il numero privato. Certo, è il numero privato adesso. Potrebbe essere anche la Vodafone che mi chiamano. Ma che Vodafone sarà qualche zoccoletta che frequenti tu. Mi fai schifo. Sei uno stronzo. Mi hai tradito. Non si fa così. Sei un bastardo. No, scusa. Chi era? No, è il numero privato. Ma come ti permette a controllarmi? Che cazzo vuoi da me? Eh? Poteva essere pure mio padre che si sentiva male. Basta, tu non ti fidi di me. Mi fai schifo. Sei un bastardo. Sei uno stronzo. Poteva essere la Vodafone.